Un lago ghiacciato, il posto perfetto per godersi la pace e la tranquillità della natura o per gettare sassi e assistere a un fenomeno inquietante. Ascoltate attentamente, fan della scienza. Quando i sassi rimbalzano, si sentono dei rumori. Sembra una battaglia intergalattica, ma avviene in un lago. Scoperto da Bryce Hunter e i suoi figli sul lago Namnasset in Massachusetts, questo strano rumore li ha lasciati perplessi. Ma da dove ha origine questo suono innaturale? Quando lancia il sasso, fa vibrare il ghiaccio, ma il suono si propaga a velocità diverse attraverso i vari materiali. Nel ghiaccio va più veloce che nell'acqua e ancora più veloce che nell'aria. Perciò queste combinazioni di suoni che viaggiano verso l'orecchio, dalle varie parti del lago, si sommano e arrivano in tempi leggermente sfalsati, cosa che crea questo strano effetto eco. Ma cos'è che amplifica così questo strano suono prodotto da un sassetto? Il lago è immenso, perciò forma una cassa di risonanza enorme. È come la differenza che c'è tra il suono di una piccola nacchera e quello di un gong gigante. E quello è come se fosse il gong più grande del mondo.